Ciao a tutti, nella recensione di oggi vi mostro lo spazzolino elettrico Oral-B Vitality 100 Cross-Action con batteria ricaricabile e testina sostituibile. La tecnologia Cross-Action assicura una pulizia superiore, clinicamente testata, rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale. Vediamo perché. A cosa serve lo spazzolino elettrico Vitality 100 Oral-B? Come dicevo, lo spazzolino elettrico Vitality 100 Cross-Action offre una pulizia superiore, clinicamente testata, rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale. Questa potenzialità nasce dalla particolare tecnologia Cross-Action applicata alle testine di ricambio. Setole angolate per una pulizia più efficace La testina Cross-Action è dotata di setole angolate di 16 gradi per avvolgere ogni singolo dente interamente. Le setole di precisione Criss-Cross, dal design professionale arrotondato, consentono di rimuovere la placca fino al 100% in più rispetto allo spazzolino manuale proprio grazie alla copertura ottimale dei denti. Tecnologia 2D La testina effettua dei movimenti elettrici di oscillazione e rotazione che consentono di rimuovere meglio la placca. Rispetto al movimento manuale dello spazzolino tradizionale, di pulire con efficacia lungo la linea gengivale e di raggiungere più in profondità gli spazi tra dente e dente. L'azione pulente bidimensionale rende VETELI T100 più efficace rispetto allo spazzolino manuale, ma allo stesso tempo adatto a una pulizia quotidiana. Timer 2 minuti Lo spazzolino VETELI T100 è dotato di timer incorporato nel manico per consentire di spazzolare i denti per 2 minuti, come raccomandato dai dentisti. Il timer, automaticamente, memorizza il tempo di spazzolamento ed emette un breve segnale acustico trascorsi 2 minuti. Come ricaricare lo spazzolino elettrico Oral-B, VETELI T100 Impermeabile e sicuro Il manico dello spazzolino VETELI T100 è impermeabile e sicuro. Per ricaricare lo spazzolino basta semplicemente collegare l'unità di carica alla presa elettrica e inserire al contempo il manico dello spazzolino nell'unità di carica, in posizione verticale. Il manico è infatti dotato di un foro che permette di inserire lo spazzolino nel caricabatteria e di tenerlo in posizione verticale, in totale sicurezza, senza il rischio che cada. Per una carica completa occorrono 16 ore. Una carica completa permette di spazzolare i denti per 5 giorni, 2 volte al giorno, 2 minuti a spazzolamento. È comunque possibile tenere l'unità di carica sempre collegata alla rete elettrica, senza rischio di sovraccarico. Come si utilizza lo spazzolino elettrico VETELI T100 Oral-B? Utilizzare VETELI T100 è semplicissimo. Basta bagnare la testina e applicare il dentifricio che più si preferisce. Per evitare schizzi prima posizionate la testina sui denti, poi accendete il dispositivo. Spezzolate prima l'esterno, poi l'interno e infine la parte superiore dei denti dove avviene la masticazione, senza premere eccessivamente. Tenete conto che lo spazzolamento deve durare 2 minuti, quindi bisogna fare attenzione a spezzolare tutte le parti della bocca allo stesso modo. Le testine sostitutive Oral-B I dentisti consigliano di sostituire la testina ogni 3-4 mesi, oppure semplicemente quando le setole appaiono logorate. Se lo spazzolino, o anche solo la testina, cade a terra, bisogna necessariamente sostituire la testina, anche se non ci sono danni visibili. Lo spazzolino Vetelity 100 è compatibile con diverse testine di ricambio, cross-section, presenta setole angolate che sollevano e rimuovono. Più placca rispetto allo spazzolino manuale. 3D White Presenta setole a ciuffi e coppetta lucidante per rimuovere le macchie superficiali e sbiancare i denti. Sensi Altratin Presenta setole ultra sottili per uno spazzolamento delicato. Sensitive Clean Per una pulizia delicata. Precision Clean Rimuove più placca lungo la linea gengivale rispetto allo spazzolino tradizionale. Flow Section Presenta setole micropulsi, pulsanti, che penetrano tra dente e dente offrendo una pulizia simile a quella del filo interdentale, senza sostituirlo. Trizone Solleva la placca riproducendo lo stesso movimento dello spazzolino manuale. Dual Clean, composta da due parti che si muovono contemporaneamente per una doppia forza pulente. Power Tip Testina molto piccola per la pulizia di ponti, apparecchi ortodontici e spazi interdentali ampi. Orto Studiato per pulire fili e placchette dell'apparecchio odonto tecnico. La maggior parte delle testine Oral-B hanno seto l'indicator di colore azzurro, che indicano quando bisogna sostituire la testina. Il colore azzurro si scolorisce infatti nell'arco di tre mesi. Come pulire spazzolino elettrico Oral-B, VETELI T100 Per pulire lo spazzolino, basta risciacquare la testina sotto l'acqua corrente con il manico acceso, dopo aver spazzolato i denti. Quindi si spegne il manico e si estrae la testina. Si risciacqua la testina una seconda volta, si asciuga e si inserisce di nuovo nel manico. Doppia pulizia Per pulire l'unità di carica basta un panno umido ogni tanto, ma mai immergerlo in acqua. Lo spazzolino elettrico VETELI T100 Oral-B ha soddisfatto le mie aspettative. Design dello spazzolino elettrico Oral-B, VETELI T100 Lo spazzolino elettrico VETELI T100 ha un design molto carino. La struttura è in plastica di colore bianco, con il manico in gomma antiscivolo, di colore grigio chiaro. Il pulsante di accensione, spegnimento, a prova d'acqua. Come dicevo, nella parte inferiore del manico c'è un foro che consente di inserire, a incastro, lo spazzolino nell'unità di carica. Lo spazzolino in posizione verticale è assolutamente stabile. Il manico è dotato anche di cuscinetti per tenere lo spazzolino fermo in posizione orizzontale, evitando che possa rotolare. Per estrarre la testina bisogna semplicemente tirare. Non è necessario fare forza. Per inserirla bisogna posizionare la testina in maniera corretta, altrimenti non entra nel manico. Lo spazzolino è leggero, pratico e maneggevole. Anche solido e di buona qualità. La versione con il manico bianco mi piace molto, sa di pulito e si adatta meglio ai colori del mio bagno. Il design dello spazzolino consente anche di portarlo con sé in vacanza o per un weekend fuori porta. Ricarica e accensione dello spazzolino io non lo tengo sempre collegato alla rete elettrica, ma lo lascio caricare durante la notte. E poi nei giorni seguenti lo uso finché non si scarica di nuovo la batteria. La carica dura molto secondo me, anche se io in effetti lo alterno con lo spazzolino manuale. Il cavo è lungo 85 cm e io lo travo molto comodo. Non si può separare dal caricabatteria, ma non è un problema. Per accendere basta premere per pochi secondi il pulsante e rilasciare subito. La testina inizia così il suo movimento di rotazione, oscillazione. Non è necessario tenere il pulsante premuto durante l'uso dello spazzolino. Anche per spegnere basta una lieve pressione per pochi secondi. Molto semplice. Lo spazzolino si ricarica tramite induzione. Non è dotato di un segnalatore di batteria carica, scarica, ma quando è quasi scarico si capisce perché diminuisce la sua velocità. In linea generale la batteria dura 5-7 giorni, lavando i denti due volte al giorno. 29,90 euro euro 24,90 Disponibile 14 New from 24,90 Spedizione gratuita Vedi dettagli Amazon It is over 15, 2023 949 Descrizione Lo spazzolino indispensabile per la tua pulizia quotidiana rimuove più placca rispetto a HUD. Uno spazzolino manuale tradizionale vibra ogni 30 secondi per avvisarti di cambiare l'area che stai spezzolando contenuto. Un manico. Una testina timer intelligente. Sopra il pulsante di accensione, spegnimento, è indicato il timer, che memorizza il tempo di spezzolamento dei denti ed emette un lieve segnale acustico trascorsi due minuti. Vi spiego meglio. Ogni 30 secondi la testina si blocca e riparte, emettendo piccole vibrazioni per segnalare di cambiare lato. Quindi nei 2 minuti ciò avviene 4 volte, cioè per ogni area della bocca. Il timer di Oral BVetelity 100 è infatti impostato per dare una interruzione del movimento di un istante ogni 30 secondi, con un'interruzione più marcata dopo i 2 minuti. La quarta volta infatti, cioè allo scoccare dei 2 minuti, la testina si blocca e riparte per due volte consecutive, sempre emettendo delle piccole vibrazioni. Ciò segnala che potete spegnere, ma lo spazzolino non si spegne da solo. Il funzionamento del timer mi piace molto. Testina Cross Action L'aspetto interessante e fondamentale è la possibilità di poter sostituire le testine, anche con modelli diversi rispetto a quello in dotazione nella confezione. Quindi è possibile anche un uso contemporaneo dello spazzolino da parte di più persone. La testina Cross Action presenta 3 livelli di setole in posizione circolare, di diversa lunghezza e di diverso colore. Le due centrali sono bianche più corte, le setole intermedie blu e verdi, le setole più esterne sono bianche e azzurre. Come dicevo, le setole sono angolate di 16 gradi per consentire una copertura totale del dente, arrivando lungo le gengive negli spazi interdentali. Ed effettivamente è così, la testina riesce ad avvolgere completamente ogni dente. Le oscillazioni sono 7600 al minuto. Pulizia i copri spazzolino Oral-B al primo utilizzo, ho sciacquato bene la testina sotto l'acqua corrente, prima di lavare i denti. Ma in ogni caso risciacquo sempre e asciuggo bene la testina, sia prima di lavare i denti, sia dopo. L'igiene è sempre importante e i batteri sono sempre presenti. Al momento il mio spazzolino elettrico è a contatto con l'aria. Cercando su Amazon ho però trovato dei copri spazzolino in plastica trasparente, lavabili e riutilizzabili, adatti alle testine Oral-B. Voi tenete il vostro spazzolino con il cappuccio? Ci sono pareri discordanti su questo aspetto. Lo spazzolino elettrico VETELITY 100 CROSS-ACTION è davvero più efficace dello spazzolino manuale? Spazzolino elettrico VETELITY 100 CROSS-ACTION, denti più puliti. VETELITY 100 CROSS-ACTION è il mio primo spazzolino elettrico. Quando il dispositivo è acceso e la testina inizia il suo movimento di rotazione, oscillazione, si percepisce una lieve vibrazione. Dello spazzolino che non dà fastidio. La prima volta può sembrare strano se con la testina, inavvertitamente, sfiorate le labbra o la lingua, ma niente di problematico. Si sente anche il rumore della testina, che però non è forte e non crea disturbo. Lo spazzolino non mi ha creato problemi durante lo spazzolamento dei denti, né alle gengive. Per la mia esperienza, è davvero più efficace dello spazzolino manuale, perché i denti risultano effettivamente più puliti. Pulizia più profonda e alito fresco, senza essere aggressivo. A me non sanguinano le gengive. Bisogna prenderci la mano ai primi tempi e spazzolare i denti con più attenzione, seguendo un ordine, esterno, interno, parte superiore. Non c'è un indicatore di pressione, ma secondo me non serve. Le setole non sono dure, né troppo morbide, sono setole di durezza media, perfette per me. La testina è lunga 7 cm e larga meno di un centimetro. Lo spazzolino ha una forma ergonomica e io mi trovo benissimo. L'unico aspetto negativo potrebbe essere il consumo di energia elettrica o il dover ricaricare la batteria o la mancanza di un indicatore. Di batteria carica, scarica, per il resto non ho riscontrato difetti e io lo consiglio anche perché ha un buon rapporto qualità, prezzo, ottimo anche come idea regalo. Io ne sono totalmente soddisfatta. A chi ha consigliato lo spazzolino elettrico, avvertenze. Io vi consiglio innanzitutto di chiedere al vostro dentista, o igienista dentale. Prima di comprarlo, assicuratevi che lo spazzolino elettrico sia adatto alle vostre esigenze e alla conformazione del vostro cavo orale. Chiedete anche al telefono per essere certi. Nei primi giorni di utilizzo potrebbero sanguinare le gengive, ma se il sanguinamento perdura oltre le due settimane, è meglio interrompere l'uso dello spazzolino elettrico e consultare il dentista. Nelle indicazioni d'uso c'è scritto di far scaricare completamente ogni sei mesi la batteria dello spazzolino. Packaging e colori disponibili. Nella confezione in plastica trasparente ho trovato, manico con testine inserita unità di carica, che comprende carica batteria e cavo. Integrato manuale d'uso in diverse lingue garanzia prodotto esistono tre varianti dello spazzolino Vetelity 100, manico blu, manico nero e manico bianco come il mio. Quanto costa e dove comprare lo spazzolino elettrico Vetelity 100 Oral-B? Oral-B è un brand molto diffuso, che offre una vasta gamma di prodotti, a prezzi concorrenziali. Lo spazzolino Vetelity 100 è in vendita nei negozi Aiam.s al prezzo di 15,20€, dove vado io. Lo trovate anche su Amazon al prezzo di 20,99€. Su Amazon sono in vendita anche le testine di ricambio, carica batteria, custodia protettiva da viaggio per spazzolino e copri spazzolino. Non so se avete visto lo spot in TV, è in corso una promozione P.E.A.M.G. che permette di ottenere il rimborso di metà della spesa, acquistando prodotti di alcuni brand tra cui Oral-B. Quindi potrebbe essere l'occasione giusta per cambiare il vostro spazzolino. Valutazione personale PRO Denti più puliti in 2 minuti Leggero e facile da utilizzare Cavo lungo e timer intelligente Testine Sostituibili Uso contemporaneo di più persone Durata della batteria Qualità Prezzo Contro Manca un segnalatore di batteria scarica Voto 10 decimi Informazioni aggiuntive Lunghezza Spazzolino Testina inserita 22 cm lunghezza Cavo di alimentazione 85 cm 90 cm Compreso il caricabatteria Peso Spazzolino Testina inserita 106 grammi Garanzia Prodotto 2 anni Rifiuto elettrico Da conferire in idonei Centri di raccolta Differenziata Batteria Degli spazzolini elettrici Oral-B-Vetelity 100 Inni MH 50-60 Hz 0,9 W Brown made in Germany Spero la mia recensione Dello Spazzolino elettrico Oral-B-Vetelity 100 Possa esservi utile Se avete domande Non esitate a registrarvi E a chiedere Ciao e alla prossima Oral-B-Vetelity 100 Spazzolino elettrico Ricaricabile Brown Un manico blu Una testina di ricambio 24 euro e 90 centesimi 29 euro e 90 centesimi Disponibile 14 New from euro 24,90 Esova A per 15 2023 949 Vedi dettagli Amazon I prezzi aggiornati al A per 15 2023 949 Potrebbe interessarti anche Apparecchio invisibile per denti perfetti Come funziona la mia esperienza penna sbiancante Mai più denti gialli e macchiati Recensione sbiancante Denti Barry Cool Di merci handy Recensione dentifricio Aloe vera di R Organic 29 euro 10 Valutazione complessiva 10,010 pro Denti più puliti in due minuti Testine sostituibili Uso contemporaneo di più persone Leggero e facile da utilizzare Cavo lungo e Timer intelligente Durata della batteria Qualità Prezzo Acquista Denti più puliti in due minuti